E' un evento di caratura mondiale e una competizione di enorme prestigio con vista su Parigi 2024. Fa tappa nella nostra Puglia per la precisione a Taranto. Preparativi ultimati per la tappa di World Triathlon Paracup in programma domani all'interno della Svam a partire dalle ore 9. Questa assegnerà punti preziosi, importantissimi per la qualifica olimpica Parigi 2024. I migliori paratriatleti del mondo si daranno la sfida qua lungo le rampe della Svam, della base aeronautica militare, quindi in un ambito assolutamente unico, evocativo. Siamo convinti che faremo vedere a tutti i paesi collegati con noi, a tutti gli atleti che rappresentano tutto il mondo, la migliore organizzazione possibile in un ambito di sinergia e di squadra che ci ha premiato fino adesso in modo esaltante. Il Movimento Italiano delle Multidiscipline manderà in archivo tra due mesi un 2023, semplicemente da incorniciare tra risultati sportivi ed organizzativi. Ora è il momento di aggiungere la ciliegina sulla torta ad un anno ricco di soddisfazioni in occasione della tappa di Coppa del Mondo a Taranto. La Fitri, d'altronde, sta puntando molto sul capologo ionico come testimonia del campionato italiano di Aquatron, ospitato proprio nella città dei Due Mari. Taranto è pronta, la nazionale italiana pure. Siamo contenti di essere qua nella nostra nazione a discutere una Coppa del Mondo, quindi già questo è un punto di partenza solido. Veniamo qua con lo spirito di far gara, di competere con i nostri avversari diretti e fare il meglio.